Ben trovati al NOTES di Antenna 3. Vediamo subito insieme come di consueto gli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che si avvia la sua conclusione la 57esima Sagra del Peperone organizzata dalla Proloco di Zero Branco presso la tenso struttura della Proloco di Via Tagliercio vicino al campo sportivo Parlotti. Ultime occasioni dunque per deliziarsi con il fornito stand gastronomico e con un ricco menù a base di peperoni e non solo. Domenica 8 settembre gran finale si balla con Gianmarco Bagutti e l'ingresso è libero. Per saperne di più c'è la pagina Facebook della Sagra del Peperone o il sito internet www.peperone.prolocozb.it La Proloco di Roncade vi aspetta alla 57esima edizione della tradizionale Fiera degli Osei e non solo che si terrà domenica 8 settembre per l'intera giornata nel parco dell'isola sul fiume Musestre a Roncade. Sarà una giornata ricca di divertimento per tutti, grandi e piccini animata dalla presenza di tantissime specie di animali, uccelli da gabbia e da voliera, animali da cortile, falchi, rapaci, serpenti, cani, giochi equestri con poni e cavalli. Divertimento assicurato anche con i giochi di una volta e inoltre potrete degustare i vari prodotti tipici della tradizione locale. Vi aspettiamo dunque in tantissimi alla 57esima Fiera degli Osei per una giornata all'insegna del sano divertimento. Nel 1927 il primo televisore elettronico della storia. L'inventore americano Philo Farnsworth costruì il primo televisore elettronico della storia. Il prototipo prese vita nel suo laboratorio di San Francisco e apparve rivoluzionario rispetto ai precedenti modelli basati su un sistema meccanico. Poiché sia l'apparecchio di ripresa delle immagini che quello di trasmissioni delle stesse erano dotati di un dispositivo elettronico. Nulla è più prezioso del tempo poiché è il prezzo dell'eternità. Luis Bodalù. La curiosità del territorio di oggi ci porta a scoprire il parco Arte Sella. Ci spostiamo a Borgo Valsugana, Trento, in Val di Sella. Qui da oltre 30 anni più di 300 artisti hanno collaborato dando vita ad un luogo dove arte, musica, danza e altre espressioni della creatività umana si fondono. Camminando lungo i sentieri espositivi si vede come l'ingegno dell'uomo si fonde con il mondo naturale. Gli artisti non vogliono essere gli assoluti protagonisti delle opere, lasciano infatti che la natura completi il loro lavoro. All'interno del parco potrete fare anche una piacevole passeggiata ammirando queste bellissime opere. E lungo questo percorso incontrerete anche Villa Strobele che custodisce una parte di opere di Arte Sella. Dal Notice di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.